ciao a tutti ragazzi ciao bentornati sul nostro canale youtube video di oggi dedicato al numero di giugno di ultra jump numero che è uscito appunto adesso questo mese però appunto relativo a giugno e che comprende in regalo questo clear file di the jojo lens come si può vedere ah sì molto molto bello che riprende sì la copertina del capitolo e vabbè qui c'è il simbolo insomma che vedete su jodio e tra l'altro vi ricordiamo se lo volete acquistare ovviamente nuovo link in descrizione www.japan shoppingservice.it sì allora io non mi esprimo più di tanto perché il capitolo l'ho letto ma marco no quindi non posso fare commenti perché io non so che cosa insomma cosa penserà guardando la rivista quindi rimarrò molto neutrale iniziamo con la pubblicità tra l'altro annunciati i nendoroid della ristampa dei nendoroid di roan e kira si può vedere e anche vabbè quello di josh che era uscito appunto l'annuncio tempo fa qui abbiamo il capitolo invece di crazy diamond demonic cart break e che tra l'altro dovrebbe finire mi sembrava no non mi ricordo sì 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 che avevamo letto siamo prossimi all'anno eh sì io penso poi avevano insomma vedrete anche il video diciamo relativo alle news di jojo e allora intanto qui sì abbiamo l'articolo sul drama che esce appunto questo mese come potete vedere c'è l'intervista qualche qualche immagine appunto presa dall'episodio ah tra l'altro esce anche il visual book attenzione vabbè poi giustamente ricordano che c'è il manga però no sono contenta che abbiano fatto altro perché appunto erano insomma erano belli gli episodi che erano usciti quindi sono contenta insomma che continuino a farne allora qui abbiamo appunto il capitolo quindi vabbè lo sfoglio così senza fare troppi spoiler insomma l'altro annunciato comunque anche dalla star comics che uscirà in italia in autunno e in arrivo il primo insomma il primo numero beh sì era comunque prevedibile che insomma non poteva mancare lo spin off appunto dedicato a joske o l'hors quindi sono siamo comunque contenti poi vabbè si prosegue con gli altri manga della rivista ah questo tra l'altro forse insomma abbastanza recente sì perché è il secondo capitolo quindi nel frattempo insomma come ogni rivista insomma ci sono quelle che iniziano e finiscono quindi ora è un po' che effettivamente non mostra no forse beh sì qualche mese perché comunque avevamo mostrato quello col primo capitolo di de jojo lens quindi si mi sembra che l'ultimo che avevamo fatto vedere era quello si quindi qualche mese fa ok io direi di passare avanti vediamo un po qua cosa c'è una pagina a colori ok ok qua fa vedere anche l'illustrazione se uno appunto la volesse ok andiamo avanti sì purtroppo diciamo che attenzione ora inizia la maggior parte dei manga appunto di ultra jump non li seguiamo quindi insomma c'è poco da da dire allora qui piccolo recapino dei personaggi e abbiamo qui tanti spoiler eh sì no non posso esprimermi quindi vabbè quando quando poi lo leggerò in italiano sì non mi ricorderò praticamente nulla a parte questa persona che è palesemente rocci ecco io io non posso dire nulla a riguardo a parte quello vedremo poi la situazione ecco perché perché è bellissimo che tu non lo leggi però ti schiaffano in copertina roni dici no perché uno potrebbe aspetta potrebbe pensare ma sai magari l'hanno messo perché c'è ora esce appunto rona l'ouvre allora allora aspetta haraki ha fatto l'illustrazione insieme però a parte che qui c'è scritto parte 9 contro kishibe eccetera però cioè ti dici ma che cazzo e quindi vabbè ti lascerò nel dubbio esistenziale quindi così insomma io suo io Marco probabilmente guarderà da un'altra parte e vabbè ah qua abbiamo tra l'altro pubblicità di jojolion sì vabbè ricordano i dieci anni giustamente cioè è finito se uno se lo vuole recuperare tutto fanno bene ecco e niente poi proseguiamo e no diciamo che allora io cerco di essere abbastanza neutrale insomma non fare spoiler però siamo ancora agli inizi e insomma è partito insomma piuttosto bene sono curiosa di vedere un po' come si andrà a delineare meglio la trama adesso più che altro hanno introdotto i personaggi è successa una determinata cosa insomma però è ancora presto per per valutare diciamo la serie però per il momento insomma partita bene ecco con appunto anche cose inaspettate ecco perché anch'io non mi aspettavo di vedere insomma questo personaggio non dico non dico altro ecco poi vabbè comunque vabbè gli altri banga sì sicuramente insomma de jojo lens insomma l'anno prossimo uscirà in italia perché beh presumo di sì visto che ora hanno annunciato questi per questo autunno insomma non esce ah pubblicità di yugioh attenzione e quindi quindi se ne riparlerà per il 2024 2024 ma come giusto che sia anche anche perché semplicemente facendo due conti voglio dire non è ancora uscito il primo volume di jojo lens tempo che esca giustamente con le tempistiche si finisce per il secondo me uscirà in estate in estate forse secondo me il primo ecco e qui ci sono tutte insomma le serie giustamente piccola pubblicità e quindi ragazzi questo era il nostro video sul numero di giugno di ultra jump con clairfile io vi ricordo che se lo volete acquistare link in descrizione www.japanshoppingservice.it se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace commentate condividete se volete iscrivetevi al canale un saluto a tutti e al prossimo video ciao ciao ciao